Subito il punto della situazione, collegandoci in diretta con Alessandra Canale e dei servizi RAI di pubblica utilità. Sì, Antonella, previsione da bollino nero confermata. Questa mattina, per quanti sono diretti verso le località di villeggiatura, la viabilità è caratterizzata da flussi veicolari intensi, nonostante lo stop ai mezzi pesanti in atto fino alle ore 22. Ma vediamo le zone di maggior traffico, monitorando la 1 all'altezza della diramazione Roma-Sud e come vedete i flussi più intensi sono soprattutto in direzione sud. L'altra immagine si riferisce al tratto capitolino, anche qui i flussi veicolari sono vivaci in entrambe le carreggiate. Inizio comunque nel segnalarvi che oltre al traffico intenso la viabilità è stata compromessa da alcuni incidenti, uno è in fase di ripristino alla dirammazione di Roma-Nord tra il bilio della 1 Milano-Napoli e la barriera di Roma-Nord in direzione del grande raccordo anulare. E' una notizia appena giunta di una perdita di carico sulla 12, la Roma-Civita Vecchia, tra Maccarese e Fregene in direzione del Bivo dell'autostrada, Roma-Fiumicino in direzione della Capitale. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buon viaggio, linea allo strato. Pronte viabilità, come da previsioni questo è un sabato di agosto complicato per chi sta raggiungendo la meta delle vacanze. In mattinata il traffico è stato molto intenso con code e rallentamenti. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo col CIS, Viaggiare Informati, con Alessandra Canale. Sì, grazie della linea, buon pomeriggio. Previsione da Bollino Nero confermata questa mattinata per quanti sono diretti verso le località di veleggiatura. La viabilità è caratterizzata da flussi veicolari intensi, soprattutto verso la riviera Adriatica, nonostante lo stop ai mezzi pesanti in atto fino alle ore 22 di questa sera. Vediamo le zone di maggior traffico monitorando l'A14, l'altezza dei Rimini, flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Analoga situazione la ritroviamo al ramo Casalecchio. Ad ogni modo ci sono code con tempi di percorrenza di due ore pensate per percorrere l'A14 tra il Bivio della 1 e Cesena rispetto ai normali 15-30 minuti. Viabilità congestionata anche tra Reggio Emilia e Bivio della 14 con tempi di percorrenza di 50 minuti e tra Faenze e Bologna-San Lazzaro e peraltro si è verificato anche un incidente. Molto trafficata la 22 autostrada del Brennero tra Carpi e il Bivio della 1 in direzione Modena. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buon viaggio e linea allo studio. Un sabato da Bollino Nero su strade autostrade per il secondo fine settimana di esodo estivo. Vediamo dunque qual è la situazione con il CIS Alessandra Canale. Sì, grazie della linea. Previsioni da Bollino Nero confermata questa mattinata per quanti sono diretti verso le località di villeggiatura. La viabilità è caratterizzata da flussi veicolari intensi, soprattutto verso la Versilia, nonostante lo stop ai mezzi pesanti in atto fino alle ore 22 di questa sera. Le maggiori criticità che andiamo ad approfondire con l'ausilio della grafica riguardano la 15 e la Parma alla Spezia, perché si registrano code motivate da traffico intenso tra Rosvincola Ulla e il Bivio della 12 Genova Rosignano in direzione di quest'ultima. Molto trafficata la 1, la Bologna e Firenze, in particolare tra Roncobilaccio e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 35 minuti e tra Firenze in Pruneta e il Bivio della 1 variante direzione nord in direzione Bologna. Mi avvio verso la conclusione segnalandovi un incidente verificatosi sulla strada statale 12 della Betone del Brennero, che sta provocando dei rallentamenti in prossimità dell'incrocio a Betone al chilometro 87,9 e ci sono criticità in entrambe le direzioni. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buon viaggio, linea allo studio. Bene, grazie ad Alessandra Canale. Giornata da Bollino Nero sulle autostrade per il primo esodo d'agosto, dal CIS Alessandra Canale. Sì, grazie della linea. Previsione da Bollino Nero confermata questa mattina per quanti sono diretti verso le località di villeggiatura. La viabilità è caratterizzata da flussi veicolari intensi, soprattutto verso la nostra riviera, sia di Levante che di Ponente, nonostante lo stop ai mezzi pesanti in atto sino alle ore 22. Vediamo le zone di maggior traffico monitorando il tratto dell'A7, qui siamo sulla sopraelevata, non ci sono difficoltà anche se ci sono code tra Pelli e il bivio dell'A7 con tempi di percorrenza di 30 minuti. Traffico intenso sulla A10, la Genova Ventimiglia, peraltro compromessa da due incidenti. Uno verificatosi tra Bordighera e Confini di Stato che sta generando code per 3 chilometri tra il chilometro 145 e 158. E l'altro sempre sulla A10, Genova Ventimiglia, 5 chilometri di code che vanno da Varazzi e Albisola in direzione Ventimiglia. E anche traffico intenso tra il bivio della A10, Genova Ventimiglia e il bivio della A12, Genova Rosignano in direzione Milano e sulla A12 code tra Santo Stefano, La Magra e Carrara in direzione Rosignano. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buon viaggio, linea allo studio. Traffico da Bollino Nero in questo primo sabato di agosto. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Alessandra Canale del CIRS Viaggiare Informati. Confermata questa mattinata per quanti sono diretti verso le località di villeggiatura. La viabilità è caratterizzata da flussi veicolari intensi nonostante lo stop ai mezzi pesanti in atto fino alle ore 22. Le zone di maggiore traffico della nostra regione sono soprattutto quelle sull'A14 con le code che vanno da Pescara e Val di Sangro in direzione Bari con i tempi di percorrenza di 45 minuti rispetto ai normali 15 minuti. Peraltro si è verificato un incidente, trattasi di un tamponamento tra tre auto in corsia di sorpasso tra Ortone e Lanciano in direzione Bari che stanno generando code al momento di 3 chilometri. Poi molto trafficata anche l'A24 tra la capitale, quindi Trattivoli e Carsoli in direzione Teramo. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e buon viaggio, linea allo studio.